Faccio l'esempio di due casi, il primo è in utenza di natura domestica, mentre l'anno scorso è stato raggiunto dal pagamento del saldo pari a 154 euro, quest'anno il pagamento dovuto sarà di 138. Invece come utenza non domestica, quindi di natura commerciale, vi cito il caso di un bar, l'anno scorso doveva procedere al pagamento del saldo per euro 396, mentre quest'anno paga un saldo di 333 euro. Una riduzione della Tari del 2,7% per quanto riguarda il comune di Arezzo, questa è la novità che riguarderà l'importo dell'ultima rata della tassa sui rifiuti per l'anno 2016. Diciamo che è stato possibile perché abbiamo preso due provvedimenti che hanno contribuito a abbassare il totale complessivo del tributo da richiedere ai cittadini e questo attraverso la reinternalizzazione del servizio di bollettazione e esazione del tributo che fino all'anno scorso veniva affidato a Sei Toscana con un corrispettivo di circa 600 mila euro annui più IVA e che invece abbiamo riportato all'interno degli uffici comunali. Il secondo è quello di aver inserito dentro la tariffa interamente l'indenità di disagio ambientale che noi percepiamo perché Arezzo è sede di impianto e quindi per intero, anche questi sono circa 600 mila euro, sono entrati dentro il corrispettivo con un segno meno, quindi lo hanno ridotto. È inoltre partita anche un'attività di liquidazione per il 2015, sono già in fase di notifica circa 8.200 solleciti per chi non ha pagato in quell'anno. Questo avviso è un avviso bonario, quindi non prevede il gravame di sanzioni. Ove entro 60 giorni dal ricevimento di questo avviso il contribuente non ottemperasse al pagamento, il prossimo atto che emetterà al Comune è un accertamento gravato di sanzioni al 30%.